Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! E sta per iniziare un'altra puntata di Ready to Robot! La sfida continua con battaglie sempre più agguerriche! Chi avrà la meglio oggi? Fatemi sapere per chi ti fate! Benvenuti a Ready to Robot! La super sfida dove la tecnica incontra i rottavi! Il primo guerriero di oggi è un combattente high-tech che ama lo scontro a bassa tecnologia! E' forte, e cazzo, e... TANK! TANK è pronto per l'esplosione robotica! Questo ragazzaccio incendia i suoi nemici e poi cucina i Marshmallow sui loro tizioni ardenti! E' stato cacciato dall'esagono, ma in qualche modo è tornato più cattivo che mai e con tre bot blaster da usare! Lui è Bongo! E' ora di dar fuoco a TANK ed entrare nell'esagono! Ragazzo, se giochi con il fuoco, ti brucerai! Non c'è un evento più epico di questo! Due pesi massimi sono Ready to Robot! Sai fare solo questo, recluta? Recluta? Io sono un generale! Generale! Mangia un po' di piombo! La battaglia si infiamma! TANK sta prendendo una bella patosta! Chi ha spento la luce? Che c'è, Mongo? Non vedi al buio? Ah! Quanto brucio! Addosso, bots! Bots? Qualcuno ha rubato i bot blaster di Mongo! Chiamate la sicurezza codice rosso! Te la farò pagare, scatoletta! Non ho preso i tuoi puzzolenti robot, ma ti darò questo! Bunker Buster! E' un folle! E' uno squilibrato! Appena dato il pugno a un Bunker Buster! Vince Mongo! Se prendo l'attaccabrighe che ha rubato il mio bot buster, mi pregherà di andarci piano! Sei stato tu, Remix? O Termo! O magari tu! Hardware! Rascondete i cuccioli, mettete al sicuro i bambini! Mongo è in fiamme e si prepara al meltdown! Io ora vado via! Ci vediamo alla prossima puntata di Ready to Robot! Dove Termo e Remix si scontreranno nell'esagono! Quante emozioni nell'arena dei robot! E' stata una battaglia epocale! Che colpì da maestro! Geniali i miei Ready to Robot! Anche io ora voglio esercitarmi e trovare delle mosse che mi faranno diventare imbattibile! Ready to Robot! Non perdetemi il prossimo episodio! E mi raccomando, iscrivetevi al canale! Ciao! Ciao!